Allora, vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere presenti, vi ringrazio in modo particolare e personale perché io questa sera ho soprattutto da imparare, prima di tutto da rendere omaggio, anzi da rallegrarmi con chi ha vinto il premio e poi da rendere omaggio a un personaggio come Ivano Sognarini che credo abbia rappresentato nella storia dell'Istituto uno dei passaggi fondamentali e quello che ha il merito di aver portato l'Istituto Storico della Resistenza Toscana ai livelli che ha raggiunto in questo momento. Poi mi fa molto piacere che poi Ivano Sognarini venga ricordato da Simone perché Simone è quello che ha preso il testimone da Ivano e quello che ha completato l'opera. Mi guardavo proprio questa mattina la storia dell'Istituto, prima della vostra gestione le cose non erano così tranquille e lineari come invece le avete lasciate voi. Quindi onore alla memoria di Ivano Sognarini e rallegramenti a chi ha vinto il premio. A questo punto il mio compito di apertura è finito e quindi la procedura a questo punto qual è? Forse prendo io la parola. Ecco bene, infatti. Prendo la parola, giusto, le due cose e poi... No, scusa, forse Valeria, forse io presento il premio. Ah, ok, d'accordo. E poi tu metti nel mezzo. Perfetto. Allora io volevo innanzitutto salutare Gabriella Tognarini che è qui con noi, nel senso che è uno dei collegati, naturalmente. Gabriella è stata sempre al fianco di Ivano e ovviamente è stata anche in quella che è stata la battaglia più difficile di Ivano. Ivano ormai sette anni fa, sono passati sette anni da quel febbraio del 2014, quando Ivano si è lasciato. Io vorrei ricordarlo semplicemente con quelle che per certi aspetti sono due banalità, ma credo siano due sue caratteristiche forti. Cioè Ivano era innanzitutto un uomo del Novecento, non solo perché era nato in una data per certi aspetti fatidica, il 2 giugno del 44, non del 46, però questo 2 giugno intanto così. Annunciava qualcosa, diciamo. Era un uomo del Novecento perché apparteneva pienamente a quell'epoca. Era calato dentro, ha vissuto, calato dentro la storia di quei decenni, come uomo proprio, come persona, come studioso, come cittadino. È sempre stato estremamente presente al suo tempo e ovviamente come organizzatore di cultura. Un rapporto strettissimo con il presente nel quale viveva, con i grandi processi del presente, con i soggetti collettivi che si muovevano nel suo tempo e quindi in quel secolo. Si sentiva proprio immerso in quel tempo, immerso in quelle questioni, immerso in quelle lotte, immerso in quei progetti. Lo era da ragazzo nella banda dei piombinesi, che si accaloravano in discussioni e in progetti da quella piccola città che era in realtà poi un umbellico del mondo per tanti aspetti, sicuramente nella nostra regione. Lo è stato da studioso legato alla sua città, non ho il tempo di ricordare tutto quello che ha fatto per la storia di Piombino. Lo era immerso ovunque si trovasse operato, nelle istituzioni, all'università, ovviamente all'istituto. Non ha mai vissuto separato dal suo tempo. Si sentiva, che poteva suonare quasi, ti colpiva secondo me in questo, si sentiva serenamente partecipe di una storia molto grande. La seconda banalità è che era un intellettuale militante, non nel senso ovviamente che aderiva a un qualche progetto politico, non nel senso, tantomeno, che piegava le sue idee a una sua ideologia. Certamente aveva le sue idee e le sue, diciamo, affiliazioni ideali, ma era un intellettuale militante nel senso che considerava il lavoro intellettuale un servizio, quindi una milizia in questo senso, un dovere. Il dovere era quello di portare un contributo di conoscenza, che secondo lui era una risorsa per l'educazione, per la consapevolezza, per la presa di coscienza di sé, io direi della società, lui forse diceva delle comunità. Comunque le comunità dovevano conoscere la propria storia. Il compito dello storico e quindi dell'intellettuale, in questo senso militante per la propria comunità, era quella di metterle a conoscenza, renderle consapevoli di questa storia. E anche qui i riferimenti potrebbero essere molti, proprio titoli, collane, serie e così via. Ecco, era al servizio di queste comunità, in realtà al plurale, che militava. E lo faceva con le sue moltissime curiosità di studioso. Era uno studioso curiosissimo. Queste curiosità anche lo distraevano, fra virgolette, rispetto al classico lavoro accademico. Sicuramente non militava al servizio dell'Accademia. Il suo rapporto con l'Accademia è stato un rapporto niente affatto lineare, proprio come lui concepiva il lavoro dello studioso, proprio per le sue curiosità che facevano sì che i suoi percorsi non fossero quelli che l'Accademia costruisce impacchettando dentro certe griglie. Lo faceva come organizzatore di cultura. Pensiamo al lavoro nel comune di Fiesole, la creazione della biblioteca, le responsabilità che ha avuto in quelle istituzioni. Pensiamo al lavoro che ha messo su con la rivista Ricerche Storiche, che, fra l'altro, compie ora il suo, non mi ricordo più quale, anniversario. È del 76, quindi siamo a 55 o qualcosa del genere. Comunque, l'idea di una rivista a tutto campo, intanto non solo di contemporanea, anche questo, è sempre rimasta così. È stata una scelta sua molto, molto peculiare. L'ha voluta come una comunità aperta e tale è stata. E ovviamente ha fatto tutto questo innanzitutto nel suo lavoro in interrotto per il nostro istituto. È arrivato da giovane, o più che studente, con l'alluvione e ha finito con la sua lunga presidenza dal 2000-2014. Anche qui ha stabilizzato l'istituto, ma ha pagato duramente sulla sua pelle quella lotta per stabilizzarlo. E lo ha fatto poi, infine, è stato intellettuale militante, nel suo darsi con enorme generosità a tutti quelli che lo chiamavano le associazioni più diverse, i comuni, gli enti. Ovunque fosse bisogno, perché era evidentemente un bisogno, la società esprimeva di conoscenza, di conoscenza storica, di lavoro, di organizzazione culturale, lui era sempre disponibile. Era un intellettuale al servizio delle comunità. Da questo punto di vista, non solo è stato un po' un anticipatore di quella che ora si chiama la public history, ma rovesciando quell'espressione, la sua storia era al servizio del pubblico, nel senso, al servizio della cittadinanza. Ecco, in queste due frasi, secondo me, possiamo richiamare un po' quello che è stata la sua esperienza, e non voglio dire il suo insegnamento, ma insomma, certamente, il richiamo che tuttora ci fa, credo, per tanti aspetti sia valido. Venendo al premio, molto rapidamente, il premio è stato istituito per ricordare Ivano, in realtà non per ricordare tutto questo Ivano, per ricordare un aspetto, lo studioso, i suoi interessi di ricerca, la sua apertura ai giovani studiosi. E per questo il premio, infatti, è rivolto a giovani studiosi, diciamo così, all'inizio, di quella che si auspica essere la loro carriera. Sui suoi temi, ma non soltanto, quindi sulla storia del Novecento in generale, proprio in coerenza con quella che era la sua apertura mentale, che vorrebbe essere la nostra. Lui certo era più aperto, perché si occupava anche di età moderna, invece il premio è sulla storia del Novecento, e così deve essere. Siamo alla terza edizione. Questa edizione è stata sostenuta anche economicamente, oltre che dall'Istituto, dalla CGL Toscana e dalla cooperativa Cuore Liburnia Sociale, cooperativa tirrenica, con cui Ivano aveva collaborato e sono rimasti molto legati al suo ricordo. Siamo alla terza edizione. Abbiamo sempre avuto fra le 25 e le 30 domande e questo è assai significativo. A mio parere è un numero elevato. Ricordo rapidamente che nella prima edizione vi furono due vincitori a pari merito, anche l'Alcade con una ricerca sui veterani di guerra e il fascismo in Europa, Emanuele Ertora sui coloni italiani in Etiopia, e quindi due ricerche che sono tradotte tutte e due in pubblicazioni significative. La seconda, ugualmente, il premio andato Andrea Martini e la sua ricerca sui processi fascisti e collaborazionisti, anche questo si è tradotto in un libro, pubblicato pure qui da una casa etnici nazionale, e questa volta la commissione che era formata da Bruna Bocchini, da Valeria Galini, da Niccolò Tognerini, da Luigi Tomassini e da me, ha individuato invece la vincitrice in, invece non vuol dire nulla, ha individuato la vincitrice in Anna Veronica Pobbe. E, Valeria, io prima di darti la parola leggerei però la motivazione della commissione, che appunto attribuisce il premio per tesi dottorato in storia contemporanea a Ivano Tognerini per l'anno 2020, a Anna Veronica Pobbe per la tesi dottorato dal titolo Hans Bibov dopo il 1941, la Wehrmacht, la soluzione finale e la fine del ghetto di Woods. La tesi, e questa è la motivazione, la tesi di dottorato di Anna Veronica Pobbe, dal titolo che ora non ripeto, si propone di ricostruire l'attività di Hans Bibov, direttore del ghetto di Woods dal 1941 fino alla sua evacuazione. Si tratta di un ottimo lavoro di ricerca che si inserisce a pieno titolo nella storiografia internazionale, grazie alla consultazione di fonti provenienti da archivi in Germania, Polonia e Israele, vi risparmio l'elenco degli archivi, e dalla utilizzazione estesa di nuove fonti digitalizzate e messe a disposizione degli studiosi. Presentata come lavoro conclusivo del trentatresimo, no scusate, trentaduesimo ciclo del corso di dottorato in culture d'Europa, ambiente, spazi, storie, arti, idee, nel curriculum studi storici dell'Università di Trento, la ricerca di Anna Veronica Pobbe traccia in cinque capitoli il profilo di Bivov, seguendo nel percorso come amministratore manager, tra virgolette. L'autrice, con grande capacità di lettura delle fonti e in stretto dialogo con i lavori più aggiornati sul tema, riesce a collocare l'attività di Bivov, scusate, Bivov, qui ce n'è un refuso, all'interno di un quadro di analisi più ampio, che le consente di ricostruire i condizionamenti, i conflitti con altri settori della macchina amministrativa, i passaggi decisionali nella direzione dal 1941 al 1944 e pertanto di contribuire all'ulteriore conoscenza della storia del ghetto di Watts. Infine, oltre che per il notevole valore dei risultati raggiunti dalla ricerca, la tesi si fa apprezzare per lo stile maturo, asciutto e misurato della scrittura. L'autrice consegna dunque ai lettori un lavoro di grande valore che interviene su un dibattito di grande interesse, poco noto in Italia e di cui è auspicabile, non il dibattito evidentemente, il lavoro, una prossima pubblicazione. Permetto di aggiungere che la tesi è stata seguita dal collega Gustavo Corni che appunto è presente tra di noi. Questa è la motivazione con cui la Commissione ha attivuito il premio. Io ho finito il mio compito e credo appunto la parola sia ora a Valeria. Io prendo appunto la parola innanzitutto per ringraziare Simone Neri Serneri per questo bel profilo commovente di Ivano e anche per salutare Gabriella che avevamo già visto ma non avevo visto prima che c'era Niccolò accanto a lei. e quindi mi fa piacere appunto salutarli entrambi con molto affetto. Non è che io io mi prendo veramente solo qualche minuto ma per dirvi che appunto io sono molto contenta di aver partecipato alla Commissione e mi diciamo alla Commissione per appunto la la scelta di questo di uno dei lavori da da valorizzare da premiare che ci permette allo stesso tempo appunto di ricordare Ivano il suo contributo l'ha spiegato benissimo Simone Neri Serneri al nostro istituto e le sue ricerche. Io mi piace anche ricordarlo personalmente perché chi come me ha frequentato negli anni giovanili dagli anni dell'università diciamo dell'ultima fase la tesi il dottorato il post dottorato la sede di Via Cavour abbiamo sempre trovato in Ivano una persona molto una studiosa molto attento appunto ai giovani ci ha sempre sostenuto quindi mi fa piacere ricordare anche questo aspetto che era un aspetto che va a aggiungersi come ha detto Simone a un profilo di studioso in mezzo diciamo per il pubblico aperto e non chiuso dentro un lavoro accademico appunto l'ha detto bene Simone le tesi che abbiamo valutato sono in questo caso sono andata anche a rivedere il numero quest'anno ne sono arrivate 24 devo dire molte delle quali presentano hanno presentato un lavoro molto documentato su temi di ampio respiro ci dà anche una una visione di come c'è una nuova generazione di studiosi di ricercatori in formazione li chiamerei che hanno che pur nella difficoltà dei tempi nel fare ricerca non non serve dilungarsi su questo però hanno la passione la motivazione per portare avanti appunto ricerche di grande valore e però ci tengo anche a sottolineare che all'unanimità e quindi con una scelta pienamente condivisa abbiamo individuato nel lavoro di Anna Veronica un appunto quello da valorizzare nell'edizione del 2021 io mi piacerebbe quindi non entro nel merito della tesi magari lo possiamo fare in una fase successiva ma ci terrei che fosse Anna Veronica io la chiamo così un po' Anna un po' Veronica ancora non ho sciolto il dubbio di questi due nomi ma lei stessa mi ha detto che si può fare così di descriverci appunto la ricerca mi piace solo sottolineare il fatto che grazie a tutta una serie di diciamo borse di studio fellowship e di contatti quindi collaborazioni con i principali istituti di ricerca che a livello internazionale si occupano di olocostadis di lavori appunto da Berlino alla rete area all'istituto all'istituto di Yad Vashem in Gerusalemme la dottoressa Pobbe è stata in grado appunto di lavorare in più lingue questo va detto perché uno dei pregi del lavoro è quello di diciamo discutere e una documentazione una storiografia in più lingue che appunto la dottoressa Pobbe padroneggia quindi con questo è sicuramente già un grande merito e quindi diciamo senza ombra di dubbio questo va a costituire un lavoro importante un contributo all'astrografia internazionale appunto di un tema noi abbiamo chiamato interesse economico soluzione finale nel titolo del nostro intervento perché entra nel merito di uno degli aspetti su cui si discute appunto del nella storiografia sul nazismo e sulla storia dei ghetti l'ultima cosa che vorrei aggiungere è che poi la dottoressa Pobbe ha molti lavori in corso di pubblicazione un'intensa partecipazione a convegni workshop e infine nel 2021 ha ottenuto anche l'Irma Rosenberg Prize per la storia del nazionalsocialismo e la storia dell'Austria contemporanea dell'Università di Vienna e quindi a conferma mi pare di un profilo di una giovane studiosa di grande valore che appunto partecipa quindi che ha il riconoscimento appunto anche internazionale per questo mi piace farle i nostri più appunto sentiti complimenti per questo lavoro e anche molti auguri per il futuro a questo punto io lascerei a lei quindi la parola per appunto descriverci senza in un tempo diciamo congruo perché l'idea di questa premiazione e quindi presentazione della ricerca che purtroppo abbiamo fatto abbiamo rimandato per molto tempo perché speravamo di poterlo fare in presenza sarebbe stata come abbiamo fatto nelle edizioni scorse è anche un momento come dire molto partecipato ma appunto abbiamo preferito non rimandare ed oltre però l'idea è quindi di concederci uno spazio per ascoltare e poi discutere il lavoro della dottoressa Pove ringrazio molto per aver accettato l'invito ringrazio quindi Lutz Klinkhammer che insomma non ha bisogno di presentazioni è uno storico e responsabile della sezione contemporanea dell'Istituto Germanico di Roma per aver per aver accettato di discutere con la con la dottoressa Pove questo lavoro e quindi subito dopo la presentazione della tesi lasceremo anche e lasceremo a Lutz la parola la parola un commento prego ok allora intanto buonasera a tutti e colgo l'occasione finalmente per ringraziare tutti quanti per questa bellissima opportunità nel senso che è stata veramente una sorpresa e ora che purtroppo non conoscevo la storia del professor Tognarini ma ora che mi è stata raccontata sono ancora più orgogliosa di essere oggetto di questo premio una piccola postilla la vorrei fare sulla condizione nella quale ci troviamo a discutere della mia tesi nel senso che sembra quasi assurdo parlare di una tesi che ha così profondamente usufruito di collaborazioni estere di viaggi all'estero in un periodo di pandemia perché purtroppo il lavoro che ho fatto se fosse stato solo spostato di qualche mese non sarebbe stato possibile e questo mette come dire un grosso punto di domanda anche su come noi ricercatori facciamo ricerca e su come in qualche modo si dovrà ricalibrare la ricerca futura perché molto spesso l'accesso anche agli archivi anche in tempi normali non è così garantito e quindi credo magari sia occasione di parlare anche di questo magari successivamente nel dibattito allora cercherò di essere breve lavorando su punti tematici e partendo dal fatto che la mia ricerca in realtà prende le mosse da delle domande che erano rimaste senza risposta alla fine della mia tesi magistrale dove mi sono occupata del processo ad Hans Bibov che avvenne nel 1946 e che poi si concluse con la condanna a morte di Hans Bibov la documentazione è polacca e si trova allo stato attuale presso l'IPN di Varsavia e in coppia presso l'Istituto Storico ebraico sempre di Varsavia io ho tradotto tutto il processo e la prima cosa che mi saltò all'occhio fu che il processo si occupava di un periodo che la storiografia faceva molta difficoltà a descrivere in particolar modo gli anni d'oro potremmo definirli così per quella che è la storiografia dedicata al ghetto di Litzmanstadt sono quelli che vanno dal 2000 ai 2000 dove abbiamo la pubblicazione della monografia del professor Corny abbiamo i lavori di Andrea Löw di Horowitz di Klein tutti i lavori che toccano e che parlano ampliamente del ghetto di Litzmanstadt parlano anche di Hans Bibov che era un manager nato a Bremen nel 1902 e iscrittosi tardivamente al partito nel 1937 arriva a Litzmanstadt all'inizio del 1940 per coprire un ruolo apparentemente minore che è quello di addetto ai rifornimenti per il neonato ghetto ebraico questo è quello che sappiamo prima dell'inizio dell'attività vera e propria di questo manager di questo manager sia Klein che Löw e anche lo stesso Primo Levi tentano di delineare un po' il profilo dell'azione di questo manager attraverso i loro scritti ma si bloccano un po' tutti al 1941 che è l'anno infatti che io ho utilizzato come spartiacque in quanto dopo il 1941 la situazione si complica a livello di poteri a livello di influenze e soprattutto a livello di ruolo che il ghetto ha all'interno della geografia più ampia di quello che è l'economia del Terzo Reich perché il ghetto di Litzmanstadt entra a far parte alla metà del 1941 del piano quadriennale di Göring e viene definito come un'entità dal valore economico tenete bene presente queste parole perché la valenza economica definizione che ho rubato a piene mani da Primo Levi che si trova in un'opera di Primo Levi del 1981 è uno dei fari che in qualche modo mi hanno permesso di muovermi all'interno di quello che è un vero e proprio mare magnum perché all'interno del ghetto di Litzmanstadt non solo noi abbiamo una produzione documentaria da parte degli enti nazisti ma abbiamo una grandissima produzione da parte degli ebrei le due documentazioni sono attualmente disponibili tutte tramite online perché la documentazione è stata digitalizzata dall'archivio di stato di Ucce nel 2009 e stiamo parlando di un fondo che contiene al suo interno qua più di un milione di carte che sono state analizzate solo in minima parte dagli studiosi e questo ovviamente è un problema all'interno del grande problema perché questa mole di documentazione non è paragonabile per esempio alla documentazione che noi possediamo per altri ghetti ma anche per altri campi non c'è questa la L'OV l'ha definita in un articolo del 2015 quest'ossessione alla documentazione che riguarda Litzmanstadt e ci sono una serie di fattori che causano questa sovrabbondanza di documenti ma che rendono anche il ghetto un unicum da osservare molto attentamente proprio a livello storiografico tornando però all'oggetto della mia tesi Hans Bibov arriva a Litzmanstadt nel 1940 e subito riesce a comprendere qual è in qualche modo il sentiero più proficuo altra parola chiave all'interno della mia ricerca per ottenere successo cioè presentare il ghetto come un'entità produttiva e quest'idea si muove nel solco diciamo di un'idea prestabilita di Greiser che considerava le comuni Greiser è il governatore del Vartegao e Greiser considerava le comunità ebraiche del Vartegao come delle vere e proprie mucche da latte in quanto considerava le comunità dei territori annessi all'interno della sua regione queste comunità secondo Greiser possedevano una tale ricchezza da poter essere sfruttate in modo intensivo e possibilmente per un periodo indefinito di tempo sul solco di quest'idea Bibov si muove proponendo come dire un salto di qualità cioè il ghetto di Litzman è stato come ente produttivo perché Litzman sta da sua volta che Litzman sta dal nome nazificato di Uc in quanto deriva da Karl Litzman che era un generale della prima guerra mondiale che aveva invaso la città Uc era una città industriale la città industriale che si occupava della produzione tessile per la Polonia quindi era una città già strutturata a livello di infrastrutture per la produzione industriale e il ghetto di Litzman entra all'interno di questo ragionamento quindi già si vedono tutta una serie di piani che all'interno della biografia di Hans Bibov costantemente si intersecheranno e renderanno il tutto molto problematico perché io ho cercato di creare una tesi su un profilo biografico ma ovviamente il profilo biografico è solo parte di una narrazione molto più ampia perché a partire dalla fine del 1941 il ghetto di Litzman entra a pie pari all'interno di quello che è il più grande discorso della Judenfrage perché all'interno del ghetto di Litzman arrivano gli U.S. Juden cioè gli ebrei provenienti da grandi città del vecchio Reich e a Litzman arrivano i primi deportati quelli delle deportazioni del novembre del 1941 a Litzman arrivano degli zingari austriaci sempre nello stesso periodo poi successivamente Litzman vede l'inizio delle deportazioni prima ancora dell'effettiva firma della conferenza di Van Zee della soluzione finale perché i primi convogli destinati a campi di sterminio partono da Litzman il 16 gennaio 1942 quindi addirittura prima dell'effettiva firma e in tutto questo Bibo un manager che non si iscriverà mai all'SS che non si ruolerà mai all'interno dell'esercito diventa una figura fondamentale perché riesce a gestire autonomamente tutto quello che è il rapporto tra lavoro ebraico e ditte private e pubbliche del Terzo Reich in modo diciamo diretto il ghetto entra a far parte del piano quadriennale perché il lavoro degli ebrei viene impiegato per produrre le divise della Wehrmacht ma non solo perché un recente articolo del 2017 ha ad esempio analizzato tutta una serie di documenti che si trovano a Ucce e che dimostrano come la produzione tessile interna al ghetto non fosse solo vincolata all'esercito ma fosse indirizzata anche alla produzione di biancheria intima e di vestiti che in qualche modo entravano nel mercato delle ditte private tedesche quindi molto più varia di quello che i documenti iniziali presentavano all'interno di tutto questo però Bibov nonostante abbia una posizione gerarchica medio-bassa e anche questo è un elemento che ha tratto in inganno molti storici perché per comprendere Bibov molto spesso si è partiti dalla posizione gerarchica quando osservando ad esempio l'impatto che lui ebbe anche a livello processuale si capisce che abbiamo di fronte una persona che solo apparentemente è di medio-basso livello ma che a livello pratico ebbe un potere enorme ad esempio è Bibov che sceglie chi vive e chi muore quando bisogna fare le selezioni dal ghetto ai campi di sterminio è Bibov che sceglie i gruppi di lavoratori abili o non nelle ultime liquidazioni del 1944 è Bibov che tratta direttamente con le ditte e tratta direttamente con i gaolaiters per possibilmente riutilizzare gli ebrei che sopravvivono nella liquidazione del 1944 quindi ha una posizione centralissima che in qualche modo non ci è data direttamente dalla documentazione nazista ma ci è data dalla documentazione successiva alla guerra e per continuare allora questo capitolo importante ci sono ok interferenza questo diciamo questo ruolo così centrale qual è la spia che in qualche modo mi fece capire che forse ero di fronte ad una persona molto più importante di quello che le carte volevano farmi capire quando trovo all'interno ad esempio dell'IPN di Varsavia i rapporti delle commissioni per i crimini nazisti subito dopo la seconda guerra mondiale la sezione polacca della commissione per i crimini nazisti diciamo quella che chiede a gran voce agli alleati che ad esempio criminali come Huss come Greiser vengano subito riportati in Polonia per essere processati mette all'interno dei primi dieci nomi più pericolosi per lo stato polacco proprio Bibo definendolo un criminale nazista di primo ordine proprio per il ruolo di sfruttamento economico e anche di metterci qualcosa da parte nostra quindi benvengano queste risorse ok ci sono una serie di interferenze peccato va bene comunque cerchiamo di non perdere il filo allora questa diciamo sottolineatura da parte di quella che è la parte polacca soprattutto dopo la guerra mi ha spinto ad analizzare molto bene quella che è l'attività economica di Bibo e che noi possiamo osservare perché nella sovrabbondanza citata all'inizio del mio discorso noi possediamo al giorno d'oggi tutta la documentazione relativa ad esempio ai conti bancari utilizzati dai nazisti per sfruttare quelli che erano i proventi delle deportazioni io in particolare all'interno della mia tesi mi sono soffermata su il Sonder Conto 12300 che è il conto bancario istituito a febbraio del 42 e che funge da ricettacolo per tutti quelli che sono i proventi dati dalle deportazioni il conto bancario permette di vedere non solo lo svilupparsi delle deportazioni perché infatti il conto bancario subisce un vero e proprio impulso di liquidità al finire di quelle che sono le deportazioni per il Vartegao e cioè nell'autunno del 1942 ma permette anche di vedere quella che era la rete che si sviluppava all'interno del Vartegao regione che questo va un po' specificato aveva una gestione delle deportazioni molto particolare era una gestione civile in capo alle deportazioni noi avevamo reparti civili non la Gestapo la Gestapo all'interno del Vartegao si muove sempre e solo come braccio armato di reparti civili che sono ad esempio i distretti che sono l'ente regionale e che fanno tutti capo a Greiser Greiser come abbiamo detto governatore del Vartegao si fida talmente tanto di Bibo che stabilisce più e più volte tutta una serie di decreti che rendono Bibo sia intoccabile da un punto di vista legislativo sia gli concedono tutta una serie di poteri come ad esempio una libera gestione del conto bancario una gestione delle persone che fanno riferimento alle deportazioni e in ultima una gestione anche delle liquidazioni perché nel momento diciamo che sono due i momenti che rendono il ghetto di Litzmanstadt non più una questione regionale ma una questione dell'intero terzo Reich e abbiamo detto 1941 quando arrivano i deportati di West Juden e 1944 perché il ghetto di Litzmanstadt viene liquidato nel 1944 e questo lo fa il ghetto più longevo tra tutti quelli istituiti nazisti stiamo parlando di un periodo il 44 dove in Polonia erano già stati uccisi più di 2 milioni e mezzo di ebrei e il ghetto di Litzmanstadt utilizzando la documentazione che viene prodotta dai nazisti era l'unica area dove c'era una presenza consistente di ebrei ancora in vita pari a circa 80.000 persone che vivevano tutte all'interno del ghetto di Litzmanstadt il ghetto di Litzmanstadt viene chiuso nell'autunno del 44 dopo un accesissimo dibattito che vede Himmler Greiser la Wehrmacht Speer e all'interno di tutto questo Bibov riesce comunque ad essere presentato come colui che dirige la liquidazione perché abbiamo un documento datato 16 febbraio 1944 che stabilisce che la liquidazione deve rimanere in mano all'ente municipale che gestisce il ghetto cioè la ghetto che era diretta da Bibov quindi abbiamo un documento ufficiale che ci dice ciò e tutto questo nonostante la documentazione bancaria dimostri inequivocabilmente che proprio il ghetto era un investimento a perdere e aveva fatto perdere negli anni milioni e milioni di Reichsmark al terzo Reich ma quindi perché la domanda che io mi sono posta alla fine della mia ricerca il ghetto di Litzmanstadt anche a livello storiografico è considerato un modello perché l'errore che molto spesso gli storici hanno fatto involontariamente perché solo dal 2009 in poi noi abbiamo avuto la possibilità di immergerci con così diciamo in modo così intenso come ho fatto io all'interno dell'archivio di Ucce prima il nucleo documentario che si utilizzava era un nucleo parziale quasi del tutto basato su una raccolta del 1946 di Eisenbach che era un ebreo poi direttore dell'istituto storico ebraico che presentò questa raccolta tra l'altro ancora validissima ma che era una raccolta parziale e che presentava una narrazione per eventi di quello che era stato il ghetto di Litzman ma ovviamente non ci dava tutta quello che era la narrazione intorno analizzando ad esempio i documenti bancari si vede come lo stato tedesco deve continuamente intervenire attraverso nuovi finanziamenti per sostenere il ghetto ma oltre al ghetto deve fare quest'azione anche per tutti i campi di lavoro del Barthegau e questo nonostante questo però Bivov riesce a presentare il ghetto come un ente produttivo e proficuo termini che il manager di Brema utilizza suo piacimento e che mischia nel discorso e che creano un mito come è stato definito ad esempio recentemente che in realtà fa vittime anche all'interno dello stesso sistema nazista perché Himmler insiste tantissimo affinché il ghetto diventi una proprietà dell'ESS proprio perché era convinto che il ghetto fosse produttivo e fosse all'apice di una catena estremamente produttiva e proficua della industria tessile tedesca cosa che invece non è vera perché i dati ci dicono un'altra cosa tutto questo quindi come vedete siamo partiti da una biografia ma in realtà siamo in mezzo a un mare di correnti che vanno dall'interesse economico specifico nella soluzione finale quindi una osservazione che ci fa entrare in quel discorso perché i nazisti erano così interessati a portare avanti una distruzione su così ampio raggio e poi abbiamo però anche tutti gli elementi comportamentali anche qui i recenti studi mi hanno dato una mano non indifferente perché ad esempio Bibo presenta tutta una serie di peculiarità a livello comportamentale ad esempio sviluppa una dipendenza da alcol che lo porta ad avere un'aggressività soprattutto verso le donne ebree e questo suo comportamento lo rende molto più simile a categorie criminali utilizzando la definizione di Browning che in teoria dovrebbero essere molto distanti perché i manager i cosiddetti amministratori sono stati per tantissimo tempo considerati degli enti apolitici ma in realtà presentano a livello comportamentale almeno nel caso di Bibo le stesse caratteristiche che noi troviamo all'interno di quelle che erano invece le braccia del diavolo cioè le guardie SS all'interno dei campi perché l'aggressività data da alcol è testimoniata solo da studi che si sono occupati solo delle guardie delle SS nei campi quindi come vedete la sua biografia ha aperto un sacco di nuove prospettive che mi spingono a dire che forse sarebbe anche ora di superare alcune rigide categorie criminali iniziare a utilizzare queste biografie molto in termini fluidi perché stiamo all'interno di una situazione fluida quale era il sistema nazionalsocialista perché se ci pensiamo bene le figure dei pleni potenziari i momenti all'interno del quale la stessa figura ha sotto di sé tutta una serie di poteri molto diversi tra loro tutti questi elementi che noi già conosciamo avendo l'analisi di altre figure devono in qualche modo secondo me essere fatte nostre ed essere implementate all'interno di un'analisi più proficua e quindi credo che da questo punto di vista molte siano forse sono ancora di più le domande che ci poniamo alla fine di questo lavoro ma che sono stata contenta di farmi perché non credevo nemmeno io delle prospettive che potevano aprirsi quando ho iniziato questo percorso e ringrazio ancora per la possibilità che mi è stata data attraverso questo premio grazie grazie per questa appunto dettagliata ma anche stringata esposizione ci sono tutta una serie di aspetti che mi piacerebbe riprendere tra l'altro erano cose che volevo chiederle e però io lascio immediatamente la parola a Lutz per un commento e poi semmai facciamo apriamo un po' alla discussione più generale prego Lutz grazie grazie Valeria buonasera a tutti sono molto lieto ed onorato di partecipare in questa occasione della consegna del premio Ivano Antoniarini a Anna Veronica pub da un lato lieto anche perché ho conosciuto Ivano Antoniarini quando ero io uno giovanissimo storico uno dei miei primi convegni ai quali ho partecipato si svolse ad Arezzo nell'ottanta nel lontano 80 stette il volume è stato pubblicato nel 90 è stato anche una sorta di anticipazione di una stagione di studi che proprio è esplosa successivamente dal 94 al 95 poi con il cinquantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale e la questione delle stragi naziste in Italia quindi sono trovo molto molto bello che adesso questo premio è conferito a dei a degli storici delle storiche della giovane generazione e mi congratulo molto con la vincitrice la dottoressa Pobbe che ha che ci ha fatto capire quanto è importante il suo studio c'è il professor Corni qui presente che conosce benissimo la tesi di dottorato quindi potrebbe sicuramente meglio di me entrare nel merito e comunque vorrei vorrei sottolineare che il tema è estremamente importante punta proprio direttamente nel cuore del dibattito sul nazismo e sulla genesi dell'orocausto anche se dietro il nome di Hans Bibo che anche in Germania non conosce quasi nessuno se non gli addetti al lavoro si nasconde un problema veramente enorme storiografico che è stato trattato dal fiofiore della storiografia non solo tedesca ma proprio internazionale e quindi è una sfida enorme alla quale si è posta Anna Veronica Pobb con questa tesi sottolineando giustamente l'importanza dei processi post bellici in quel caso soprattutto per averci lasciato una documentazione amplissima perché la memoria del processo è praticamente inesistente non so come in Polonia ma lì fuori della Polonia non si sa assolutamente nulla nonostante il fatto che come abbiamo sentito non si è trattato di un uomo dell'SS ma di un amministratore manager burocrate quasi dello sterminio coinvolto in prima persona nelle pratiche di sterminio quindi non un Eichmann un uomo più direttamente sul campo coinvolto direttamente ma a pochissimi a poche decine di chilometri dal campo di sterminio di di Kermno Kolmow e proprio prima abbiamo sentito quattro giorni prima della conferenza del Vanze c'è il primo trasporto in quel campo di sterminio che diventa il modello negativo della distruzione industriale con il gas degli ebrei europei quindi la spiegazione dei meccanismi che hanno portato allo sviluppo dello sterminio industriale con delle tecniche appunto industriali e qui siamo proprio nel centro della della questione e un incrocio anche tra nazisti di alto livello persino Himmler viene a visitare il campo il ghetto e quindi la questione in che modo dovesse essere trattato il gruppo degli ebrei rinchiusi nel ghetto di di una città che doveva cambiare l'assetto poi successivamente avrebbe dovuto diventare una città entrata completamente nell'orbita della grande Germania quindi questa questa domanda si pone con estrema forza è importante anche sapere che si trattava di un territorio gestito da un'amministrazione civile tra l'altro una caratteristica di quella zona di annessione attorno la prima zona di annessione attorno al Reich tedesco un'amministrazione civile che aveva anche Lussemburgo che aveva il cosiddetto protettorato Bohemia Moravia quindi una zona l'Alsazia anche l'Annavegia poi comunque una zona destinata a diventare un territorio di insegnamento di tedeschi alla fine dopo l'espulsione che diventò poi sterminio della popolazione polacca ed ebrea particolarmente presente nella città e abbiamo sentito anche di questo incontro tra brei dell'est e brei dell'ovest che dalle città della maggiori città tedesche e quindi il luogo scelto per la tesi è estremamente importante i meccanismi sono interessanti la questione appunto dello sfruttamento lavorativo ed economico della potenza lavoro ebrea che nello stesso momento viene volutamente distrutta e rimase a livelli certamente ben lontani dalla piena efficienza a causa di uno sfamamento voluto prodotto proprio dall'amministrazione del ghetto e questo scontro tra sfruttamento e annientamento è appunto all'interno del dibattito della storiografia che per lunghi anni si è diciamo suddivisa tra intenzionalisti funzionalisti il ruolo dell'ideologia certamente la Polonia diventa un laboratorio per gli esperimenti nazisti con la frammentazione territoriale che poi si ripercuota anche in altri territori la Jugoslavia la Grecia la Francia e tutto lo stesso meccanismo una 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 spaccatura territoriale che per facilitare lo sfruttamento ma anche per utilizzare i territori in maniera diversa per le pianificazioni del Terzo Reich quindi vorrei chiedere da un lato se ho capito bene ha tradotto gli atti del processo contro Bibo dal polacco quindi un enorme modo di lavoro di utilizzo quindi sarebbe anche molto bello avere a disposizione questa queste traduzioni che almeno per noi qui in Italia è più molto più facilmente utilizzabile rispetto al polacco vorrei però anche chiedere in che modo Bibo possa essere considerato un ordinary German nel senso di Browning quindi non solo dal punto di vista della sua appartenenza al partito alle gerarchie ma soprattutto dal punto di vista del suo comportamento dalle sue logiche dai suoi interessi da quello che è stata lei ha chiamata la fluidità anche delle persone appunto i tanti plenipotenziari avevano un potere enorme ma dovevano enormemente anche imporsi nei confronti dei loro concorrenti interni che sono stati investiti dello stesso potere da parte di Hitler o da parte di altri gerarchi del nazismo quindi qual è la caratteristica che fa di Bibo un un uomo tra virgolette modello per il controllo e lo sfruttamento dei territori annessi alla Germania ma anche in questo complesso di anniantamento sfruttamento in che modo possiamo caratterizzarlo un'altra domanda che vorrei porre riguarda il lato dell'economia cioè il rapporto tra pubblico e privato in che modo influenzano gli interessi del settore privato di quello pubblico abbiamo sentito quindi la produzione per la Wehrmacht in una città che era nota anche per la sua produzione tessile ma il privato cioè in che modo si intrecciano o si impongono interessi privati eventualmente in che modo possa influenzare questo le politiche generali cioè i piani dell'ESS possono essere influenzate da queste logiche o sono proprio come dire aspetti complessi separati e si intrecciano in che modo possiamo verificare qui eventualmente una deviazione di programmazioni ideologiche che vengono portate avanti da Berlino quindi la lunga durata del ghetto da che cosa dipese innanzitutto ecco penso di potermi fermare qui adesso con il mio commento con le domande alla vincitrice con la quale appunto mi complimento per il premio per il lavoro svolto spero spero anche di che abbia il tempo a pubblicare una versione della tesi in forma di libro in modo da rendere la pubblica e quindi il premio credo che è anche un ottimo un ottimo aiuto appunto per una futura mi auspico anche rapida pubblicazione grazie e complimenti grazie rispondo subito sì io direi allora partiamo dal processo allora il processo questa la questione che in in Europa se non c'è fuori dalla Polonia non si parla di di processo ma in generale si parla poco dei processi della Corte Suprema Polacca e della stagione perché in realtà è stata una stagione abbastanza lunga quella polacca riguardante i processi perché va fino al 1950 anno dove avviene il primo processo di massa contro gli ex componenti del campo di Kulmov il problema di questi processi è che vennero bollati abbastanza velocemente eh dai giuristi eh europei e americani come processi sommari perché figli di una legge speciale polacca addirittura dell'agosto del mila novecento quarantaquattro la legge Serpniukka che è una legge che permetteva la costituzione di corti speciali composte da tre giudici con una giurisdizione molto particolare la amplissimi poteri eh di condanna eh praticamente eh la possibilità di eh portare a processo chiunque fosse apparso anche solo minimamente vicino all'attività di occupazione nazista e questa legge venne bollata come una una legge vicina al regime comunista fatta con l'intento di preparare il terreno ad una nuova Polonia quindi i processi caddero all'interno di eh una damnazio memorie nonostante in Polonia noi abbiamo persino la tv nazionale che registra la condanna di Bibov frammenti che si trovano per chi fosse interessato ad esempio all'interno dell'archivio digitale dell'Holocaust Memorial Museum di Washington dove troviamo proprio il pezzo di Cine Giornale del 1946 dove viene condannato Bibov per dire quanto invece questi processi all'interno dell'opinione pubblica polacca fossero stati utilizzati dal governo anche in in funzione educativa e questa damnazio memoria però fu immediata perché il primo documento che io ho trovato quando ancora facevo la magistrale riguardava un documento stilato da un procuratore di Brema che chiedeva informazioni sul destino di Bibov in quanto la Polonia non aveva mai come dire dato informazioni su quello che era stato il destino di questo condannato a morte ed estradato già nel 1945 il processo non è molto lungo perché avviene nel giro di cinque sei giorni è il dibattimento però abbiamo quasi trecento pagine di processo e nonostante la breve durata però stiamo parlando di quasi quaranta testimoni ascoltati più la presenza di esperti ad esempio Eisenbach che presentarono prove vennero presentati documenti vennero presentati oggetti vennero presentati elementi che poi sono stati ripresi nei primi processi contro le guardie di Chemno che avvennero in Polonia nel 1950 quindi in realtà è un processo molto interessante purtroppo attualmente l'unica copia disponibile alla consultazione è quella che è posseduta dall'istituto storico ebraico perché sapete purtroppo bene chi si occupa un po' di storia del nazismo qual è l'attuale situazione all'interno dell'IPN a Varsavia quindi purtroppo la situazione è anche questa e ci sono i c'è un gruppo di ricerca austriaco che ad esempio ha provato a cercare documentazione su quello che era il sottoposto di Bibo che era Cianula che venne processato poco dopo e venne anche lui condannato a morte condanna anche questa che oltre ad avere utilizzato un decreto speciale però utilizzava anche una particolare nozione di associazione criminale che era che era stata in qualche modo sviluppata all'interno dei processi della Corte Suprema Polacca e che per dare un riferimento legislativo è molto vicina al cosiddetto concetto di common design che era stato usato in alcuni tribunali militari americani contro per esempio le guardie di Dachau però stiamo parlando dei cioè sono legislazioni molto particolari utilizzate subito dopo la guerra e che proprio per questo utilizzo anche a livello cronologico molto vicino agli eventi molto spesso sono state bollate come legislazioni particolari volte ad ottenere come dire il massimo risultato nel minimo tempo ma in realtà se uno va a leggere le carte presentano ad esempio degli elementi interessantissimi perché i 40 testimoni che parlano al processo a Dance Bible e ne erano stati richiesti 230 ma ne vengono ascoltati solo 40 raccontano tutta una serie di particolari che dalla storiografia purtroppo non erano stati presi in considerazione probabilmente perché l'accesso a questi atti era problematico magari anche per una questione di lingua e poi perché c'era questo pregiudizio su qual era il valore di questi processi che purtroppo è sempre il grande problema di parte dei processi fatti dopo la guerra soprattutto in quegli stati diciamo nella sfera di influenza comunista questo per rispondere alla prima domanda la seconda allora Browning io mi sono mossa in antitesi a Browning perché Browning utilizza le poche nozioni che aveva di Bibo e le ancora meno nozioni che aveva di Howerswald che per chi non lo sapesse era uno degli amministratori del ghetto di Varsavia ma anche qui potremmo aprire enormi dibattiti perché in realtà il vero detentore del potere amministrativo all'interno del ghetto di Varsavia era Fisher quindi anche qui c'è un problema di parallelismo di figure comunque Browning utilizza queste due personalità per cercare di identificare una nuova categoria criminale che è quella dei ghetto manager persone iscrittesi tardi al partito nazista dalla posizione ideologica poco chiara sto citando le caratterizzazioni che fa Browning di queste persone e infine persone che non riescono a percepire la contraddittorietà tra sviluppo economico e distruzione perché vedono il loro lavoro all'interno di un sistema di holding action in riferimento a quella che è la politica regionale e territoriale di tutto questo profilo la cosa secondo me da tenere buona è l'ultima parte cioè l'incapacità di vedere una contraddizione tra sviluppo economico e distruzione il resto i dati che io ho potuto analizzare dimostrano un po' il contrario perché Bibo dà prova più volte durante la la sua carriera di essere un grandissimo antisemita e di sfruttare anche la sua presenza fisica stiamo parlando di un uomo alto 1,80 biondo con gli occhi azzurri amante del bello dei bei vestiti della della sattorialità fatta su misura quindi stiamo parlando di un uomo che utilizza anche un determinato immaginario per presentarsi tantissimi sopravvissuti descrivono come nelle deportazioni dai ghetti provinciali all'itzmestad questo Bibo si presentasse sempre con una camicia impeccabile bianca con i pantaloni neri e gli stivali tirati a lucido per anche in qualche modo dare un'immagine di sé ben precisa quindi siamo davanti di una persona che in realtà utilizza appieno quello che è il contesto scenografico dato dall'ideologia razzista del Terzo Reich e come poterlo utilizzare come modello ma innanzitutto si può utilizzare una persona come Bibo come modello per l'intraprendenza che sappiamo lei ha citato Eichmann sappiamo che era uno degli elementi fondamentali per essere un uomo di successo all'interno del Terzo Reich l'intransigenza con cui porta avanti alcune sue idee l'adeguamento che la sua persona ha nei confronti delle fluttuazioni all'interno del percorso e e quindi può essere usato come modello utilizzando le caratteristiche però che meno lo fanno entrare nei modelli che noi oggi possediamo perché come ho scritto in conclusione al mio lavoro se noi osserviamo Bibo in base a una prospettiva lo possiamo categorizzare come ad esempio un amministratore apolitico perché se guardiamo la sua vita prima dell'arrivo a Litzmestad nulla ci dice che abbiamo davanti una persona che in qualche modo mira ad avere determinati obiettivi ma se noi lo osserviamo per il comportamento psicologico dato ad esempio dalla dipendenza da alcol la violenza e soprattutto l'incapacità di accettare i fallimenti fallimenti che innescano un circolo vizioso radicalizzante come ha giustamente anche detto Bayer su proprio questi elementi che sono fortemente supportati dalla politica locale perché Bibov è fortemente supportato da Greiser quindi è un protégé nel senso più pieno del termine attraverso questi elementi noi possiamo utilizzarlo come modello come modello di una persona che in qualche modo vede nel nazionalsocialismo un treno di cui sicuramente condivide le idee ma che prende questo treno per aumentare anche il suo livello sociale e la sua potenza e a livello anche di situazioni da questo punto però ovviamente questo implica aprire tutta una serie di nuovi contesti infine l'ultima domanda relativa all'economia e al motivo perché per i quali il dietro rimane aperto allora sull'interesse privato c'è ancora moltissimo da dire perché purtroppo noi abbiamo una contraddittorietà all'interno dei documenti cioè alla fine del 1940 quando si stabiliscono i contratti tra ghetto lavoro ebraico e Wehrmacht si stabilisce che il ghetto non doveva in nessun modo far entrare il capitale privato all'interno di questa trattativa cioè abbiamo proprio i documenti che lo dicono nonostante questo però lo studio che io ho citato su il valore minimo del ghetto all'interno dell'industria tessile tedesca che è tratto da un'analisi parziale di un'allieva di Spörer pubblicato nel 2017 all'interno di questo studio l'autrice si è occupata ad esempio delle commissioni con i privati cosa che non avrebbe dovuto trovare se noi ci fossimo basati sui dati dati dai documenti del 1940 e addirittura l'autrice ha trovato traccia di una pubblicità di materiale prodotto nel ghetto all'interno di alcuni quotidiani tedeschi il problema è che siamo all'inizio perché anche questi tipi di fondi hanno innumerevoli cioè sono costituiti da migliaia e migliaia di carte e tra l'altro carte che in teoria se noi ci fossimo basati sui documenti ripeto del 40 non avremmo dovuto trovare quindi non solo noi abbiamo questi come dire grandi spazi aperti all'interno di una narrazione già esistente ma sarebbe il caso di andare a vedere anche in quelle parti dove in teoria i documenti stessi precedenti ci diceva che non avremmo potuto trovare nulla ma purtroppo troviamo quindi è una questione che tra l'altro si sta espandendo però sul motivo per cui il ghetto è rimasto in vita così a lungo fino ad ora nulla mi dice che questo non fosse legato estremamente ad una convinzione adamantina posseduta da Greiser e in generale da le alte sfere del potere nazista che il ghetto fosse un'entità produttiva e fosse un modello all'interno della della cosiddetta del cosiddetto universo concentrazionario questi sono i due motivi principali che non sono motivi reali perché non sono supportati da dei dati ma diventano reali quando vediamo i toni con cui si scambiano le comunicazioni tra i varienti e quando ad esempio vediamo l'insistenza completamente ingiustificata di Himmler che cerca in tutti i modi di mettere le mani sul ghetto tra l'altro l'insistenza che fa del ghetto di Litzmanstadt un oggetto delle attenzioni di Osti che era il progetto di Himmler di creare un impero industriale delle SS che in realtà non prenderà mai piede ma anche qui il problema è molto più complesso di quanto non si pensi perché ad esempio all'interno sempre dell'Holocaust Memorial Museum abbiamo fotografie che alla liberazione del ghetto di Litzmanstadt alcune donne ebree presentavano giacche con il tassello di Osti nonostante il passaggio non sia mai effettivamente avvenuto all'interno della documentazione però questa è una cosa su cui bisogna un po' ricercare ancora grazie grazie per questo scambio che mostra tutta la ricchezza ma anche come dice Anna il fatto che una ricerca presenti nella sua conclusione nuove domande nuovi testi di ricerca già conferma l'efficacia la bontà della ricerca della ricerca stessa ci sono le cose che io nella lettura diciamo della tesi avevo annotato e che su cui mi sarebbe piaciuto tornare sono già state affrontate un po' appunto questa questione del profilo biografico sinceramente anche a me è venuto in mente la questione è un ordinary man anche e soprattutto quando faceva menzione all'alcol c'è questa abitudine alla violenza forse io credo che sia quello molte delle analisi di gran parte dell'analisi di Browning oggi per quanto allora quando è uscito è stato un modello il lavoro di Browning oggi sono superate da nuove documentazioni però quell'aspetto lì io l'avevo trovato l'ho sempre trovato abbastanza efficace se posso velocissimamente c'è un professore che ho contattato mentre scrivevo la tesi perché avevo trovato un suo articolo e da cui poi adesso è appena uscito una monografia che si chiama Edward Westerman e insegna in Texas e ha scritto una biografia una monografia che si chiama Drunk on Genocide e lui mi ha a un certo punto io vedendo il comportamento di Bibo ho scritto direttamente a questo professore chiedendo visto che lui aveva fatto degli studi su quanto l'alcolismo facesse anche a livello di psicologia sociale quanto l'alcolismo diventa proprio un trigger per la violenza e io chiesi abbastanza spudoratamente se secondo lui si poteva parlare di un utilizzo cosciente dell'alcol visto che ad esempio nel caso di Litzmastad noi abbiamo i documenti che attestano una costante compra di alcol da parte delle ma anche nello stesso Browning però nel suo caso questo lo è attestato però ad esempio Westerman riesce attraverso un'analisi e tra l'altro mi ha detto io ho utilizzato Bibo come esempio e tra due settimane presenterà il libro in un evento quindi che spero di assistere perché sono molto curiosa perché sono le nuove frontiere diciamo di quella che è la commissione tra la psicologia sociale e quello di cui ci occupiamo noi l'abitudine questa abitudine alla violenza sostanzialmente quindi questo mi sembra un aspetto molto interessante poi altre cose ora non le riprendo tutte mi sembra molto interessante lo studio che ha fatto sui conti bancari che è una parte appunto concretamente ci sono anche dei commenti ora però senza monopolizzare la conversazione io in realtà inviterei chi ha avuto la appunto il piacere di partecipare ma anche mi piacerebbe il professor Corni o Gabriella Nicolò chiunque se vuole fare appunto un commento una domanda quindi apriamo adesso la discussione c'è anche qualcuno che posso prego visto che mi hai gentilmente chiamata in causa intanto mi fa tantissimo piacere per Anna sono molto molto contento per lei perché se lo merita è tutto merito suo perché è vero che io mi sono occupato dei ghetti e sono l'unico italiano che se ne è occupato almeno a mia conoscenza prima di Anna ma io me ne sono occupato dalla parte degli ebrei dalla parte delle vittime e come dire tutti gli altri stavano sullo sfondo e Anna ha ribaltato giustamente questa prospettiva credo che sia molto interessante e sono veramente contento spero che riesca a portare avanti il suo lavoro volevo soltanto brevissimamente fare un commento dal lavoro di Anna come dalla più recente dalle più recenti frontiere della storiografia sull'olocausto emerge quanto sia ancora insondato nella sua gran parte cioè qualunque interpretazione che si sia provata a dare di carattere generale dell'olocausto anche di anche quelle di tipo funzionalistico come le chiamavano alla Browning o alla o alla Gerlach cioè che si situazionistico che come dire si soffermavano si concentravano sulle situazioni e sulle funzioni svolte specificatamente dal singolo individuo dall'apparato dal singolo apparato in una specifica eh in uno specifico contesto in uno specifico luogo anche questo tipo di frammentate interpretazioni sfugge sempre di più ad una generalizzazione è eh in qualche modo è un se vogliamo è un po' un'ironica eh un'ironica dimostrazione che la tesi di se non ricordo di Horkheimer comunque la 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 l'aforisma di Horkheimer secondo il quale eh con Auschwitz la storia non era più scrivibile non era più studiabile in qualche modo sembra quasi essere e che io ho sempre detto no non è possibile e milioni migliaia di storici nel mondo non solo hanno detto non è possibile ma si sono provati a studiarla questa storia eh beh sembra in qualche modo eh inverato dimostrato anche da questo lavoro di Anna che è molto specifico molto parziale ma riguarda Anna non lo ha detto il secondo più grande ghetto in Polonia anzi in Europa che è che è secondo solo a Varsavia ed è come ha ricordato Anna il ghetto che dura più a lungo più a lungo di tutti nella nell'Europa occupata un caso unico nelle sue dimensioni che è stato studiato da decine decine di monografie un'ultima o non ultima la monografia di Anna e che comunque continua a riservare a ogni volta che si aprono delle scatole eh di archivi o delle scatole di analisi di prospettive di analisi continua a dimostrare ogni volta che in ognuna di queste scatole si aprono prospettive nuove di studio si aprono letture nuove anche sconcertanti anche sorprendenti questo è un invito credo metodologico molto importante a mio parere che un fenomeno come il nazionalsocialismo ma si potrebbe dire lo stesso per il comunismo sovietico o per molti altri fenomeni della storia contemporanea non sarà mai studiato fino in fondo non lo si potrà mai capire fino in fondo lo dimostra lo studio stesso di Anna che non è riuscita praticamente nonostante la ricerca straordinaria che ha fatto a trovare nulla sulla biografia di Bibo quasi nulla eppure lei ha studiato tutto il possibile su Bibo cioè è una figura di cui sappiamo pochissimo anche se magari sappiamo che vestiva in maniera estremamente elegante curava molto e probabilmente Westerman saprà anche dirci quante grappe quante bottiglie di grappa beveva al giorno di schnapps beveva al giorno quindi è solo un commento molto generale e mi complimento ancora con Anna e anche grazie naturalmente voi che le avete invitata a questa presentazione sono naturalmente molto contento che sia stata una mia allieva essere premiata grazie grazie no ma mi pare che ci sono una puntualizzazione che va fatta a conclusione perché è vero l'impressione che non si finisce mai di cioè l'altra cosa su cui volevo intornare è la ricchezza delle nuove fonti che aprono e appunto e mi fa anche sottolineare la possibilità di appunto di giovani ricercatori che si impegnano anche a imparare le lingue per su cui fanno che sono necessarie per studiare questi temi di ricerca che aprono appunto prospettive nuove come se non finissimo mai no e poi anche scusate l'ultima cosa questi profili no perché ormai c'è una storiografia sui profili biografici io ad esempio per la Francia ho lavorato molto sulla biografia di Best che anche quella è un bellissimo lavoro intellettuale nazista tutta la parte della formazione ma è come se andassimo a moltiplicare i casi qui abbiamo un manager una figura che sembra di basso rango invece poi viene considerato uno dei maggiori responsabili no quindi è un po' veramente più andiamo avanti più diciamo il quadro va a complicarsi e va anche a rendere necessarie nuove ricerche quindi chi ha l'impressione un po' da lontano di questi studi che si che si continua a lavorare su dei temi noti in realtà c'è una storiografia che sta lavorando su nuove fonti nuove 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 questioni che danno anche conto della centralità poi delle diciamo dei temi di storiografia e di diciamo della storia del novecento che stanno poi alla base di questo di questo di questi lavori ecco altri interventi commenti saluti no guardate giusto una una parola da parte mia sono Nicola Tognerini volevo non ti vediamo se mi mi attivo il video sì che abbiamo piacere ecco salve salve dunque allora tanto per cominciare volevo complimentarmi con Anna Veronica per questo lavoro di interesse autenticamente straordinario sono veramente nuovamente colpito dopo aver esaminato a suo tempo la tesi per per l'esposizione chiara e lucida e per la qualità la qualità di questo lavoro quindi complimenti per questo premio veramente meritato e sono complimenti che si estendono anche a tutti voi che avete un'altra volta reso possibile reso possibile che ci fosse questo questo premio che avete dedicato il vostro tempo il vostro lavoro per vagliare così tante tesi e così tante proposte proposte interessanti mi sembra che questo premio si mantenga costantemente su un livello di qualità e di interesse straordinario è merito sia dei giovanili ricercatori sia di voi che le avete selezionati e come famiglia tonierini vi siamo immensamente grati per questa maniera di commemorare mio padre complimenti veramente a tutti grazie davvero grazie Niccolo veramente e complimenti Anna Veronica davvero complimenti grazie no se posso dire una cosa sulle fonti che non ho ancora avuto modo di dire ma è importantissima in questo caso non si parla solo di fonti digitalizzate ma si parla anche di fonti audiovisive perché io ho avuto la fortuna già durante la triennale di essere adottata dall'istituto per i beni storici audiovisivi di Roma che è l'unico istituto in Italia che ha l'accesso integrale alla Shoah Foundation di Spielberg e io tra tesi magistrale e dottorato ho avuto la possibilità di lavorare su 133 interviste che parlavano di Bibo per una questione di tempi mi sono focalizzata solo su quelle in inglese ma in realtà utilizzando il pattern Bibo comparivano più di mille interviste che parlavano di lui quindi anche da quel punto di vista la narrazione è ancora ben lungi dall'essere completata però ad esempio le testimonianze sono fondamentali perché i particolari del vestire e soprattutto la sua azione di uomo della selezione è descritta solo all'interno delle testimonianze non ci sono rimasti documenti ufficiali che indicano un'attribuzione a Bibo di questo ruolo però lo sappiamo da il numero considerevole di testimonianze che indicano come fosse lui quello che in corrispettivo diciamo ai medici che alla banchina d'arrivo ad Auschwitz selezionavano chi facevano andare a lavorare e chi no faceva lo stesso all'interno dei piccoli ghetti provinciali sparsi per il Vartega quindi ho fatto bene a precisare anche questa cosa posso dire una cosa volevo ringraziare Anna Veronica per la questa presentazione della sua tesi dottorato molto interessante e non vedo l'ora di leggere la pubblicazione e avevo bisogno di una curiosità cioè è stato detto da te e anche dal professor Corny che il ghetto di Lodz è stato l'ultimo ghetto a essere liquidato non in Polonia ma nell'Europa occupata e quindi diciamo in questo ragionamento non viene incluso il ghetto di Theresienstadt perché nel senso perché il ghetto di Theresienstadt è un ghetto diciamo che è che è stato creato in una città dove non c'era prima una presenza ebraica mentre all'Otsi questo è la 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 differenza non so allora la differenza in realtà è anche è una differenza molto sottile perché probabilmente se noi accertiamo quella che è l'ultima definizione Alessandro sta citando la pubblicazione più recente sul ghetto di Theresienstadt che è un lavoro mastodontico il lavoro si chiama The Last Ghetto e è veramente un lavoro mastodontico il primo che finalmente cerca di fare chiarezza su tutti i fondi che si occupano di Theresienstadt Theresienstadt che è collegata a Ucce per due motivi primo perché Bibov ad un certo punto viene chiamato da Heydrich per andare a Litzienstadt io non ho ancora avuto modo di leggere questa monografia però io non ho mai trovato documenti che attestino Bibov effettivamente a Theresienstadt ho trovato i documenti che attestano un rapporto iniziale dove si sarebbe stabilito che Bibov avrebbe svolto l'attività due giorni a Theresienstadt e altri due giorni a Ucce tenendo la gestione di entrambi i ghetti però questa cosa non sembra prese mai ufficialmente piede ma la cosa interessante anche a livello storiografico è che sia Theresienstadt che Ucce o Litzienstadt se vogliamo utilizzare il termine tedesco sono due ghetti che ad un certo punto non vengono più definiti come ghetti ma vengono definiti come campi perché la loro inusuale longevità gli fa come dire naturalmente cadere all'interno di situazioni spure io ritengo che per entrambi i casi si debba tenere la definizione di ghetto perché non siamo di fronte a una struttura da campo in nessuno dei due casi nemmeno cioè potremmo definirli dei semicampi solo in periodi molto tardi della loro vita attualmente viene ancora dato come il ghetto più longevo Ucce per una questione che secondo me la storiografia non ha ancora digerito l'ultimo lavoro su Theresienstadt che però ha una storia completamente diversa e anche sulla differenziazione che ad esempio ha sottolineato l'oeuvre sulla questione proprio che non è possibile fare un modello di ghetto molto spesso ci copriamo di questa coperta molto corta che sono le definizioni che utilizziamo campo di concentramento campo di serminio ghetto ma ad esempio non esiste un modello standardizzato di ghetto istituito dai nazisti non lo è nella gestione non lo è nelle persone che vengono scelte per gestirlo e non lo è nelle pratiche e non lo è tantomeno nelle persone che vengono all'interno di questi ghetti quindi è tutto molto più complesso però probabilmente credo che come data di chiusura finale dovrebbe essere utilizzato Theresienstadt e io spero che prima o poi questo anche legame tra questi due ghetti che non a caso sono utilizzati entrambi in chiave ideologica perché Theresienstadt addirittura viene scelto per ospitare una missione della Croce Rossa per dimostrare che gli ebrei hanno una città concessa da Hitler citando un documentario che venne fatto dalla propaganda ma anche Litzmestadt nel 1941 dà dimostrazione di essere una moderna città nazista perché al suo interno ha un ghetto perfettamente funzionante all'interno del quale apparentemente gli ebrei hanno trovato un modo per vivere e sostentarsi autonomamente attraverso il loro lavoro quindi sono due qui sì modelli ideologici però infatti il professor Corni nel suo libro Il Ghetto di Hitler chiama Theresienstadt lo definisce come ghetto campo quindi una specie di grazie niente a questo punto facciamo un'ultima raccolta visto che siamo qui più da un'ora e mezzo posso intervenire certo Camilla infatti anche io vorrei fare i complimenti alla vincitrice per il suo lavoro di respiro europeo internazionale anche questo non è proprio all'ordine del giorno una cosa molto importante che fa molto piacere seguire la tesi di dottorato va in molte direzioni come abbiamo visto a me piace mettere in evidenza quella sul tema di cui anche io mi sono occupata e cioè lo sfruttamento economico del lavoro schiavo a favore dell'economia di guerra dei deportati nell'agere dei prigionieri dei ghetti di cui è vero esiste una stereografia in Germania molto meno in Italia che ci sono fatta ovviamente per i lavori di Mantelli ed altri ma è un argomento che ci dà ancora così impariamo ancora molte cose anche su questo aspetto dello sfruttamento economico con tutte le sue contraddizioni quando parliamo di questo sfruttamento all'interno dei livelli più estremi cioè quelli dei lager quindi bene bene che questa tesi abbia anche questo taglio quindi grazie benissimo continui così saremo dietro sono anch'io curiosa di leggere di leggerlo grazie Camilla anch'io volevo intervenire non metto il video per problemi tecnici però volevo approfittarne per fare di nuovo i complimenti a Veronica e insomma è molto bello sentire delle ricerche che ha fatto io ho già ascoltato in varie occasioni la sua ricerca quindi adesso con la presentazione mi sembra di aver chiuso il cerchio insomma veramente molto interessante e anche il modo in cui con cui l'hai esposta è veramente insomma interessante complimenti e volevo avevo più che altro una curiosità nella tua presentazione ti sei soffermata varie volte sull'aspetto comportamentale insomma anche nei commenti si è spesso sottolineato questa cosa quindi volevo chiederti secondo te cosa cosa può portare di nuovo alla storiografia tutto quello che già conosciamo sull'olocausto il soffermarsi su questo aspetto comportamentale dei vari profili coinvolti insomma nella gestione dei ghetti e dei campi grazie 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 a Chiara che oltre ad essere collega è anche un'amica quindi diciamo che il suo intervento è viziato potremmo dire così però no a parte questo allora l'elemento comportamentale io credo che apra moltissime nuove strade all'interno di quello che è il contesto anche scientifico nel quale noi ci muoviamo in primis perché è un aspetto che ci può essere dato principalmente dalla fonte dei sopravvissuti perché stiamo perché stiamo parlando di un occhio specifico che è quello del sopravvissuto di colui che subisce un suppruso della vittima e del suo carnefice e questo perché purtroppo nella maggior parte dei casi siamo in mancanza di un carteggio privato quando c'è il carteggio privato a livello comportamentale rischia di essere come dire molto deviante ma allo stesso tempo rischia di darci un come dire una sfaccettatura molto interessante basti pensare a cosa ci dice il carteggio privato di persone come Himmler o ad esempio la stessa narrazione sul governatore Greiser di cui è stata fatta una bellissima monografia di Epstein che ha potuto accedere alle lettere private che il Greiser mandava alla moglie che all'epoca dei fatti quando Epstein ha scritto la sua monografia era ancora in vita in questo caso non abbiamo questa fonte preziosissima privata ma abbiamo lo sguardo intenso e specifico dei sopravvissuti che rispetto a altri tipi di sopravvissuti hanno vissuto quattro anni all'interno di un'ombra lunga che è quella gettata da questa persona e che soprattutto negli ultimi due anni del ghetto cioè dal 42 al 44 subiscono maggiormente il comportamento di questa persona perché la figura che era stata chiamata a fare da cuscinetto tra quelle che erano le azioni naziste e gli ebrei cioè Runkoski perde la sua funzione di cuscinetto e lo perde perché la comunità ebraica di Uc vede Runkoski principalmente come un traditore a causa di un famosissimo discorso che si trova anche in diversi romanzi che è il discorso all'interno del quale il capo dello Yunderat chiede agli ebrei di mandare i figli a morire il cosiddetto discorso datemi i vostri figli e questo è una scure sulla opinione che gli ebrei di Litzmestad hanno di Runkoski per ovviare a questa mancanza di cuscinetto potremmo dire entra a pie pari Bibov che fino al 42 non è quasi mai descritto dai sopravvissuti perché tutti i sopravvissuti iniziano a descrivere Bibov da partire dal 42 mai prima e a livello comportamentale è importante perché innanzitutto oltre ad avere questo aspetto di questa dipendenza alcolica di cui a riguardo anche qui è uscito un recentissimo diario di quella che era una delle segretarie di Runkoski che assiste in prima persona a il deterioramento psicologico e fisico di Bibov e che dichiara che Bibov era costantemente supportato da due segretarie perché a partire dal 1943 lo stato di alterazione di Bibov era tale che non era più in grado di fare costantemente il suo lavoro e anche qui però siamo ad una fonte specifica pubblicata solo recentemente però sono molto importanti perché all'interno ad esempio di opere che hanno cercato di lavorare solo sulla struttura in particolare mi riferisco all'opera di Peter Klein che si è occupato proprio della struttura della Getofer-Waltung come struttura aderente alla municipalità in realtà il problema ad esempio del lavoro di Klein è che ad un certo punto i personaggi si perdono in una sorta di scenario molto fuscato ma perché la questione diciamo delle persone viene in qualche modo messa in secondo piano mentre le istituzioni pubbliche o comunque le istituzioni sono sempre fatte da persone e finché noi non prendiamo nel nostro grande discorso anche il loro comportamento specifico non avremo mai soprattutto nell'analisi di storie come sono quelle legate alla seconda guerra mondiale dove molto di quello che è un individuo entra nelle scelte personali perché sappiamo benissimo che tutti i carnefici hanno avuto prima o poi la possibilità di scegliere e di uscire dal loro luolo di carnefice questo ha creato la grande domanda perché non lo fanno perché non l'hanno fatto nonostante ci fosse la possibilità e se noi non pur avendo la possibilità cioè in questo caso le testimonianze dei sopravvissuti non le analizziamo avremmo sempre un quadro che già è parziale come ha detto prima il professor Corny già è altamente parziale così perché la varietà con cui il nazionalsocialismo si pose nei vari territori è tale da impedire allo stato attuale delle cose una storia generalizzata io spero che con le risorse e con la forza che i nuovi ricercatori hanno adesso questa cosa si possa superare ma non si supererà nei prossimi cinque anni ce ne vorranno almeno dieci o quindici dove bisogna sperare che il ritmo con cui noi stiamo ricercando su tutti questi aspetti venga mantenuto e che non è mai una cosa scontata però se noi non teniamo presente l'elemento personale comportamentale ci manca è una grandissima fetta di quello che è il comportamento e l'azione e il risultato quindi credo che da questo punto di vista sia fondamentale grazie anche per questo ultimo intervento e aspettiamo se no vi ricordo siamo quasi due ore queste due ore sono volate perché io penso che come tutti diciamo i ricercatori che sono appassionati di una ricerca Anna potrebbe continuare altre tre ore ma no no ma per dire che siamo stati rapiti dalla narrazione di Veronica però appunto forse possiamo ecco mi pare che poi la discussione le questioni che sono emerse le domande le curiosità vanno a confermare insomma la ricchezza di questa di questo lavoro di tesi e quindi io sinceramente di nuovo rinnovo il piacere di aver appunto partecipato a questo a questa commissione e aver letto tra le varie cose questo lavoro di della dottoressa Pobbe e quindi posso chiudere diciamo il mio intervento poi lascerò la parola al presidente semplicemente appunto augurandole però già il premio dell'università di Vienna va a sostanzialmente a darci conferma che sarà almeno pubblicato o in inglese o in tedesco quindi c'è un lavoro su una pubblicazione italiana io credo che anche la nostra storiografia in italiano ha bisogno di conoscere un po' più da vicino la storiografia di tradurre o comunque di pubblicare in italiano la storiografia sul nazismo come appunto i lavori di Corni del professor Corni sono così importanti per appunto la storia italiana e quindi ecco lascio la parola al presidente Matulli per il saluto finale sì sì io non ho chi da sottolineare quello che è già stato detto avevo detto all'inizio che sapevo che questa sarebbe stata un'occasione in cui avrei imparato tante cose e ho imparato tante cose ho imparato soprattutto l'enormità delle cose che non conosco ovviamente però devo dire che mai e poi mai mi sarei aspettato una illustrazione come quella che ho sentito dalla pop e dalla vincitrice che naturalmente ha lasciato credo anche gli altri che sono molto più esperti di me abbastanza ammirati e sorpresi quindi non posso che associarmi ai complimenti e ai allegramenti devo dire un ringraziamento particolare anche perché è stato un bellissimo modo per onorare la memoria di Ivano Tognerini e di questo sono profondamente grato grato a tutti quanti a tutti gli interventi e alla partecipazione alta che c'è stata fino a questo momento quindi per queste belle due ore grazie tanto buonasera arrivederci a tutti e grazie sempre a Nicco Bianchi per la parte tecnica che ci appunto arrivederci a tutti arrivederci a tutti ciao arrivederci a presto salve a tutti